Una legge del Consiglio regionale, sono ormai quattro edizioni, ci crediamo molto soprattutto in quello che può diventare la via della transumanza che senza far venire meno la centralità delle gregge e dei pastori, altrimenti perdiamo di vista il motivo per cui da mille anni c'è questa grande autostrada verde che attraversa più regioni, però può diventare anche un grande attrattore per un turismo lento e sostenibile e creare tante azioni di recupero dei nostri centri minori interni che noi animeremo con 27 e più iniziative di ogni livello, da quelle culturali, teatrali, musicali, esperienziali e museali e riteniamo che questo sia un dato molto qualificante per la regione Abruzzo. Siamo giunti al Festival della Transumanza, ormai è da anni che questo evento lo portiamo avanti appunto in collaborazione con il Consiglio regionale d'Abruzzo e l'Aggiunta, 27 comuni tra cui la mia città, Sulmona un evento importante con Gabriele Cirilli.